Cari amici, benvenuti in questo nuovo video di La Chimica per Tutti. Oggi parliamo di una nuova reazione degli alkeni, la reazione di diossidrilazione. È una reazione in cui ossideremo un doppio legame con un reagente opportuno per ottenere un diolo, quindi due gruppi OH. Prima di cominciare vi ricordo che sul sito www.lachimicapertutti.com trovate tutto l'elenco completo di video in ordine, in modo da non perdervene nemmeno uno, in modo che se avete dei dubbi trovate tutto quanto messo lì. E inoltre trovate tante altre curiosità, video extra, insomma veramente un sacco di cose. E ovviamente trovate anche le istruzioni per sostenermi nel caso in cui apprezzaste il mio lavoro. Ciò detto, passiamo all'argomento di oggi, appunto la diossidrilazione. Nella diossidrilazione trattiamo un alchene con tetrossido di osmio, in modo da ottenere il corrispondente di olio. Quindi, per esempio, partiamo sempre dal nostro alchene generico, ok? Lo trattiamo con tetrossido di osmio in un solvente, come può essere per esempio sempre il nostro tetraidrofurano, ok? Prima fase. Seconda fase, trattamento con acido solfidrico, ok? Oppure con bisolfito di sodio, quindi NaHSO3 e otteniamo il nostro diolo. Notate come la reazione di diossidrilazione col tetrossido di osmio procede con un meccanismo sin. Di conseguenza, entrambi gli OH saranno sempre dalla stessa parte, ok? Quindi, nel caso di un alchene lineare, ovviamente otterrete soltanto questi due possibili enantiomeri. Nel caso di un alchene ciclico, per esempio, il vostro prodotto sarà sempre il diolo cis, ok? È possibile anche ottenere quelli trans, ma attraverso un'altra reazione che vedremo nel prossimo video. Dunque, questa reazione, come vedete, è una ossidazione. Ed è una reazione abbastanza particolare. Perché? Perché avviene con un meccanismo concertato, ok? Ora, in realtà, il tetrossido di osmio è il reagente più utilizzato, ma ce ne sono anche di altri tipi. Per esempio, in passato, si utilizzava il permanganato di potassio KMnO4. Oggi non si utilizza più dal punto di vista sintetico perché è un ossidante troppo forte e si formano troppi sottoprodotti. Però, la reazione con permanganato di potassio è molto utile dal punto di vista analitico. Se volete riconoscere la presenza di un alchene, la presenza di un doppio legame reattivo, in una molecola incognita, potete farlo facendo reagire la vostra molecola con il permanganato di potassio. Perché? Perché il permanganato è viola, che è un bel viola scuro. Quando reagisce con un doppio legame, il permanganato diventa biossido di manganese, MnO2, che invece è marrone ed è insolubile, quindi precipita. Quindi una reazione tipica, non utile dal punto di vista sintetico, ma utile dal punto di vista analitico. Viceversa, l'ossidazione col tetrossido è una reazione che dal punto di vista sintetico funziona benissimo. Ora, in realtà, quella che vi sto facendo vedere, anche questa è una reazione che oggi si utilizza pochino. Perché? Perché si preferisce utilizzare una nuova tecnica che, invece dell'acido solfidrico, sfrutta dell'acqua ossigenata. Perché? Perché in questa maniera si può riformare il tetrossido di osmio, che deve essere aggiunto così solamente in quantità catalitiche. Infatti il tetrossido di osmio è un sale molto, molto costoso, molto costoso, e anche molto tossico. Per cui meno ne usiamo, meglio è. Appunto, utilizzando queste nuove tecniche con l'acqua ossigenata, è possibile riformare ogni volta il tetrossido di osmio, man mano che reagisce, e quindi basta aggiungerne piccole quantità. Comunque, per ora limitiamoci a vedere questa reazione di base. Ok? Allora, qual è il meccanismo? Il meccanismo, appunto, è quello di una addizione concertata al doppio legame. Quindi, partiamo con il nostro alchene, dopodiché abbiamo il nostro tetrossido di osmio. Notate come, all'inizio, ok, noi stiamo partendo da un sale di osmio 8. Ok? Quindi, osmio 8. Allora, a questo punto cosa succede? Succede che abbiamo donazione dall'ossigeno verso l'alchene, formazione di un legame carbonio-ossigeno e rottura del legame ossigeno-osmio. Ok? Quindi, come vedete, sono tre movimenti concertati, ok, che alla fine ci porteranno a ottenere un prodotto di questo tipo. Ossigeno-ossigeno-osmio-ossigeno-ossigeno. Notate come lo stato di ossidazione dell'osmio è passato da più 8 a 6. Ok? A più 6. Quindi l'osmio si è ridotto. A questo punto otteniamo questo intermedio, questo osmiato, che può essere isolato, in teoria, ma in pratica non si fa, che poi appunto normalmente viene trattato con H2S o con il bisolfito di sodio, per ottenere poi il nostro diolo, che è il nostro diolo. sempre notate come gli OH sono dalla stessa parte e poi dall'altra parte si ottiene un sale di osmio-6. Ok? Questo sale, se lavoriamo in presenza di acqua ossigenata, poi viene riossidato a osmio-8 e può ricominciare la reazione. Questa reazione dal punto di vista sintetico è molto utile, ok? Perché poi vedremo che con i dioli si possono fare una serie di altre reazioni abbastanza interessanti. Tuttavia appunto questo qua ci permette di ottenere solamente dioli cissi, diciamo, ok? Quindi dioli in cui gli OH sono dalla stessa parte. Vedremo nel prossimo video che attraverso un'altra reazione sarà possibile ottenere dei dioli in cui gli OH sono da parti opposte, quindi sono anti, diciamo, con un meccanismo anti. Io per oggi vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale in modo da non perdervi nessun video e grazie ancora per essere stati qui con me, alla prossima, ciao ciao!